Un fuoco scoppiettante ai pupi che lentamente cadono a pezzi e scompaiono. È l'ultimo atto del festival della SFAI a Valencia in Spagna che si tiene ogni anno nella settimana del 19 marzo. Un'occasione per celebrare il giorno di San Giuseppe con una tradizione che risale a molto lontano. I valenziani dedicano molta energia a questa ricorrenza e il cosiddetto momento dell'incenerimento è molto sentito. La tradizione vuole che le giovani nigne onorino la festa vestendosi con abiti medievali e che assistano a rogo piangendo poi le figure date alle fiamme. Vera e propria festa, la SFAI, celebrata da ogni quartiere che organizza parate e baldacchini per bruciare i pupi, richiama in città ogni anno migliaia di turisti.